A Venezia per le tue compravendite, Venice Immobiliare Cera, agenzia leader. Bentrovati al meteo. Continua la presenza costante dell'anticiclone anche in questo weekend. Clima mite, ma la stabilità favorisce l'accumulo di smog e peggiora la siccità. Sul Veneto la grafica di sabato 18 febbraio ci mostra un cielo grigio e nebbioso. Non sarà così soltanto la mattina, ma un po' per tutto l'arco della giornata, specie in pianura e nei fondovalle. Attenzione a foschie anche fitte. Temperature stazionarie o in locale aumento, minime tra 3 e 6 gradi, massime invece tra gli 8 e i 12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo coperto con foschi e nebbia, specie nelle ore più fredde. Non si escludono locali piovigine, specie verso est, schiarite e soleggiate invece sulle Alpi e in quota. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà decisamente più soleggiato, con nuvolosità alta e locale presenza di foschie, ma nelle ore più fredde. Temperature minime intorno a 1-3 gradi, massime sui 13-15 gradi all'incirca. Dal metodo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. A Venezia per le tue compravendite, Venice Immobiliare Cera, agenzia leader.